Che stai facendo? Nelle foto ai piedi. Perché? No niente che ho venduto un paio di scarpe online, solo che il tipo a cui le ho vendute mi ha chiesto delle foto ai piedi per capire se i miei piedi sono uguali ai suoi. Cioè io ho mandato il mio numero, che ovviamente è uguale al suo, però lui ha bisogno di queste foto perché vuole capire se i nostri piedi sono simili. E da stamattina sto scattando foto, girando video, una persona di una precisione proprio. Ciro. Che? Ciro. Ma ti do una mano io, ma dammi qua. No, ma ci mancherebbe. Perché non riesco a scattare le foto da tutto. Allarga le dita. No, allarga le dita. Arriccia pure. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.